E intanto è fatta anche la prima serie di 800 metri alla maschile, con i migliori accrediti. Dipende come giocisce la gara. Dai Fra! 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 E si vanno a giudicare questa scelta. Allora in esterna, ma vado a attivare la zule. Dai Fra! Dai Fra! Dai Fra! Dai Fra! E si vanno a giudicare questa scelta. E vediamo il tempo. Uno è per lonto. 3, 1